Buongiorno e benvenuti alla prima edizione di Oratg. Il Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, l'assessore regionale al turismo Maglio Messina, porta buone nuove al vertice con le organizzazioni sindacali. Sono stati ripristinati i fondi 2019, 2020 e 2021 nel collegato alla finanziaria e chiede all'Ars adesso, prima di andare in ferie, che dia il via libera alla ripartizione. Sentiamo Mario Grasso. Siede a un lato l'assessore regionale al turismo, porta buone notizie all'incontro odierno con le rappresentanze sindacali del Teatro Bellini, convocato dal sovrintendente Grossi, ormai sul punto di lasciare l'ente lirico catanese. Dall'altro lato, dal capoluogo palermitano, arrivano segnali contrastanti circa la volontà politica di approvare entro tempi brevi le variazioni di bilancio proposte dalla Giunta Musumece, che poi sono il piatto forte dell'intervento di Messina, declamato innanzi al sindaco di Catania salvopugliese, che poi nella fattispecie è pure il presidente del teatro, e a cui è toccato il compito di fare gli onori di casa, ricevendo per la prima volta al San Giorgio il nuovo commissario regionale del Bellini, la dottoressa Daniela Locascio, che avrà le cavi in mano a partire dal 13 agosto e che, senza veli, ha chiesto la massima collaborazione da parte di tutti perché si possa viaggiare verso un'unica direzione. Le buone notizie di Messina. Annuncia che il governo regionale ha riequilibrato i fondi per il teatro, riportando la triennalità 2019-2020-2021 alla quota annuale di 13 milioni di euro di contributo, sanando così il vulnus dei mesi scorsi, che prevedeva addirittura zero euro per il 2021. Le pessime notizie. Lars non ha votato e pare non sarà chiamato a votare la variazione di bilancio, se non dopo le ferie, cioè tra 40 giorni potrebbe essere tardi. Il paradosso, un atto assolutamente irresponsabile, laddove il governo, dopo un lavoro intenso, riesce a trovare le risorse e a ripianare il triennale che consentirà ai teatri Vittorio Emanuele di Messina e Mebellini di Catania di poter chiudere i bilanci che consente il proseguo della stagione a forte rischio ormai. Ritengo che l'azione dell'Assemblea regionale sia obiettivamente un'azione di assoluta irresponsabilità e speriamo che tornino indietro e convochino quantomeno l'Aula per parlare e risolvere questo tipo di problema. Questo è quello che mi auguro perché sennò i rischi sono veramente altissimi. Sì, al Festival Belliniano. Oggi lei ha portato la conferma, tra l'altro ha suscitato l'applauso dei sindacati, non è semplice. Sì, è paradossale che in una città come Catania, patria di Vincenzo Bellini, non ci sia un Festival Belliniano degno di tale nome. Noi abbiamo la necessità di lanciare il brand di Bellini, lanciarlo non solo per la nostra città ma per la nostra isola interamente e quindi stiamo lavorando e già abbiamo la certezza che questo Festival Belliniano si farà. Il concetto è rimarcato dal sindaco Salvo Pogliese. Notizie positive in termini di dinamismo, di capacità progettuale da parte dell'assessore regionale Maglio Messina che si è subito attivato, ha fatto approvare in giunta alcuni interventi normativi, ma l'Assemblea regionale siciliana ha deciso di andare in ferie per 40 giorni e quindi si è interrotto questo percorso normativo che mi auguro possa essere recuperato da qui a breve. Messina chiede fiducia ai sindacati che almeno in questa fase sposano il programma tracciato dall'assessore, fermo restando i problemi legati agli stipendi, ai precari, alla programmazione. La fiducia sarà massima, perché abbiamo visto che tra di loro ci sarà fiducia massima e questa è una cosa importante perché un'orchestra funziona se c'è un grande direttore. Ebbene, loro sono i nostri direttori d'orchestra di questa città. Un messaggio importante è uscito oggi, il Bellini non è un teatro chiuso. Il Bellini deve essere, permettetemi, sarà stato detto tante volte, deve essere un volano importante per la città, una città che vive di crisi, una città che non è più commerciale perché sappiamo benissimo che chiudono decine e decine di attività commerciali durante le giornate, eccetera. Quindi è una città turistica. E allora il teatro è andato in un concerto al porto, sotto una nave da crociera dove nel giro di due ore ha raccolto 1500 presenze. Il teatro deve essere utilizzato più per queste cose, più nel territorio e deve uscire molto di più dal teatro. Ci spostiamo adesso a Mister Bianco dove questa mattina c'è stato un sit-in dei lavoratori del centro convenienza. Brancola non nel buio, lavoratori del centro convenienza che non vedono lo stipendio da mesi mentre l'azienda non sembra avere un piano per uscire dall'impasse. I nodi al pettine, dopo la fusione di Tirrenia con S4, ditta di pace del Mela con quattro sedi in Sicilia. Davide Foti, segretario Filcams CGL. Stipendi a parte, sta accadendo che il ciclo produttivo di questa azienda si è bloccato. Si è bloccato perché non si pagano i fornitori, si è bloccato perché non si consegna e si è bloccato perché c'è stata una, secondo noi, degli investimenti fatti male da questa azienda che ha portato di fatto a uno stallo economico e finanziario. Dopo la tre giorni messa in atto un uomo sciopero e presidio di circa 30 dipendenti. È accaduta a proposito di sciopero un'anomalia? Cioè questi lavoratori sono stati sostituiti? È possibile farlo? Questa è una cosa vergognosa che in Italia ancora succede. Sono stati sostituiti da altri la settimana scorsa con sciopero in atto che è una palese violazione del diritto allo sciopero. Abbiamo provveduto anche a denunziare l'azienda, quindi ora aspetteremo la prassi legale ma per farvi capire che non hanno più strumenti per poter andare avanti. Stituiti da chi? Stituiti da altri lavoratori che venivano da altri punti vendita, da altri territori. Una trentina in totale vi sono ingegneri ed architetti, sono lavoratori specializzati nella progettazione e realizzazione dell'arredo in grado di seguire il cliente in tutte le fasi dall'idea alla costruzione. A fare le spese della crisi sono anche fornitori ed acquirenti. Io lavoro per questa azienda da quasi quattro anni. La nostra situazione è insostenibile. Noi non percepiamo lo stipendio, ci mancano le mensilità di giugno, di luglio e la quattordicesima. Inoltre abbiamo delle colleghe che sono in maternità, in gravidanza. Siamo qui soprattutto anche per dare una risposta a quei clienti che hanno fatto degli acquisti. Tre o quattro mesi fa lasciando o degli acconti o saldando l'intero importo d'acquisto tramite finanziamenti o comunque togliendo i propri risparmi. Prosegue ad ora Tg la carrellata dei professori candidati alla guida dell'Università di Catania. Abbiamo detto che sono cinque gli aspiranti alla poltrona di rettore. Oggi diamo voce al docente Priolo. Mario Grasso. Sono cinque i professori candidati alla carica di magnifico rettore dell'Università di Catania. Ateneo che andrà al voto il 23 agosto per eleggere il successore del professore Francesco Basile rimasto invischiato nell'inchiesta della Digos Università Bandita sospeso dall'incarico dal quale si è poi dimesso. Si tratta di Salvatore Barbagallo, Vittorio Calabrese, Agatino Cariola, Francesco Priolo, Roberto Purrello che in questi giorni stiamo imparando a conoscere ad ora Tg. Abbiamo già sentito i programmi di Barbagallo, Calabrese e Cariola. Oggi tocca al professore Francesco Priolo, 57 anni, ordinario di Fisica della Materia del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Catania. Attualmente ricopre il ruolo di direttore dello stesso dipartimento. Fondatore e primo direttore del centro di ricerca Matis è stato presidente della Scuola Superiore di Catania dal 2013 al 2018. Io credo che il rettore di una università debba essere innanzitutto baluardo in difesa della cultura e debba essere il garante di tutti, di tutta la comunità accademica ma anche di tutta la società civile perché questa università deve ripartire e deve rinascere. Io mi sono messo a disposizione, mettendo a disposizione dell'Ateneo e della città, la mia esperienza. Ho un'esperienza lunga, tanto come ricercatore, sono innanzitutto un ricercatore e poi anche per la gestione, attività di gestione sia all'estero, a livello internazionale che in Italia e presso il nostro Ateneo. Come immagina lei l'Università dell'immediato futuro? L'Università dell'immediato futuro deve essere una università libera in grado di trattare con tutti a testa alta ma specialmente deve essere una università trasparente, un cristallo. Infatti sto pensando non solo alla presenza di un delegato alla trasparenza ma anche la presenza di un osservatorio composto da personalità di alto valore etico totalmente esterne al nostro Ateneo che possa certificare che le nostre procedure e quello che si fa presso questa università è in linea con quanto fatto nelle migliori università italiane ed internazionali. Dobbiamo riconquistare l'immagine ma riconquistarla riconquistando quei valori etici di cui questa terra ha davvero bisogno. Se lei fosse eletto rettore dell'Università di Catania qual è il suo primo giorno da rettore? Il primo giorno è un giorno in cui tutta la comunità accademica verrà coinvolta verrà coinvolta per ripartire ripartire insieme perché questa città se lo merita questa città ne ha bisogno non possiamo pensare una città di Catania senza una università forte ma deve essere una università libera, indipendente trasparente, meritocratica ed etica. I mezzi della Multiservizi delocalizzati dall'autoparco a Via Palermo in diversi punti strategici di altre sedi comunali c'è stato un incontro stamani a Palazzo di Città Ai giorni contati l'autoparco della Catania Multiservizi di Piazzale Asia una sede sovrastata dall'ex Palazzo delle Poste e come mostrano le immagini ai limiti della decenza con seri rischi per i lavoratori gli stessi mezzi per via della frequente caduta di calcinacci l'autoparco sarà dislocato in vari sedi comunali già in funzione nei locali della manutenzione di Via Palermo in quelli di Via Gorizia e dell'ex mercato ittico il trasferimento era stato oggetto di un'interrogazione da parte del consigliere Andrea Barresi di recatosi sul posto dopo le numerose lamentele ascoltate cosa accadeva prima e qual è l'opportunità un esempio se doveva mettiamo partiva un ordine di servizio da parte della manutenzione verde cosa accadeva bisognava chiamare la manutenzione verde il Comune di Catania doveva chiamare il direttore della Multiservizi partiva un ordine di servizio invece oggi cosa accade tutto insieme cioè dell'unico complesso in base a tre punti strategici che sono stati scelti dall'amministrazione comunale insieme al management societario è stato possibile accorpare il verde con il verde la struttura comunale per quello che riguarda le manutenzioni delle scuole con la manutenzione scuole quindi andiamo a risparmiare costi sia di struttura che anche di personale e poi tre la manutenzione classica ordinaria che fa fare la Catania a Multiservizi spa insieme alla manutenzione del Comune di Catania per quello che riguarda le strade e tutto quello che oggi compie in base al contratto di servizio del passato materialmente quando avverrà questo trasferimento? allora tra una decina di giorni sarà esecutivo perché oggi ufficialmente sono state siglate dai direttori verbali di consegna e di rilascio degli immobili sempre di proprietà comunale razionalizzazione dei servizi integrati di partecipate in Comune di Catania e tutela dell'incolumità di dipendenti dalla personale soddisfazione del rappresentante della stessa cittadina promotore del trasferimento a quella dell'amministrazione di Palazzo degli Elefanti oggi in conferenza per rendere noti i dettagli sindaco ed assessore a ramo sono tantissimi i settori in cui la multiservizio opera non solo quello del decoro urbano ma anche in materia di sicurezza e prevenzione per esempio di sinistri andiamo periodicamente a censire gli alberi che sono a rischio di stacco o ramo o addirittura a rischio crollo quelli che sono aggrediti da parassiti e andiamo a mettere in sicurezza aree dove spesso appunto vanno famiglie bambini e quindi in passato la città è stata colpita da sinistri causati da alberi crollati o da rami staccati quindi la multiservizio fa un lavoro molto delicato anche in chiave di prevenzione con tecnici che vanno a fare operazioni di trazione sugli alberi più importanti proprio per verificare la resistenza al vento e ai temporali e poi in questi giorni è impegnata per esempio allo stadio Massimino a breve partire la stagione sportiva anche lì c'era la necessità di fare importanti opere di manutenzione c'è un progetto di forestazione urbana in cui è coinvolta anche la multiservizi stiamo sostituendo alberi a quelli malati o a quelli morti o a quelli ecco in passato sradicati e mai appunto sostituiti nella frazione giarrese ci spostiamo di Santa Maria la strada in via Riosto sono finalmente cominciati i lavori per la messa in sicurezza dopo l'apertura di una voragine ben quattro anni fa eccole le transenne che delimitano il cantiere su via Riosto nella frazione giarrese di Santa Maria la strada ci sono voluti quattro anni di attese la voragine che si era aperta nel 2015 era stata recintata ed adornata in questi anni pure con dei fiori li vedete un paradosso perché lì fioriere e soprattutto cumuli di immondizia abbandonati da incivili lontano da occhi indiscreti non avrebbero dovuto avere il tempo di fare tappa fissa la strada ovviamente è rimasta chiusa al transito troppo rischioso attraversare questa arteria viaria in queste condizioni necessario uno scatolare in cemento che a fine lavori garantirà sicurezza a pedoni e conducenti un bel problema per la zona trascinatosi pertanto troppo tempo gli automobilisti che sono transitati sulla parallela strada statale 114 hanno subito pesantemente questa situazione lo avevano già lamentato i residenti con loro forte il grido dei commercianti che nei giorni scorsi ha presa la notizia che ad inizio agosto operai e mezzi avrebbero preso servizio quasi non credevano fosse tutto vero se non vediamo non crediamo avevano esordito proprio ai nostri microfoni no veramente ancora non ci crediamo cioè fino a quando non li vediamo all'opera non ci crediamo ma è 4 anni che questa strada è chiusa e poi la particolarità di questa strada è che l'unica strada di Giare che ha una voragine e una discarica perché praticamente in questa zona di qua la differenziata non avviene cioè tutta la gente va a buttare tutta la spazzatura in questo lato della strada quindi ovviamente cani che la sera spaccano l'immondizia topi e quant'altro quindi veramente speriamo che anche questa zona di Santa Mella strada viene presa dall'amministrazione e viene fatta un pochettino di pulizia e un pochettino di ordine anche per quanto riguarda questo buco che venga sistemato vi siete sentiti un po' abbandonati in questi anni sì perché a parte il buco a parte l'immondizia è da pochissimo tempo che hanno ripristinato l'illuminazione proprio da questa parte quindi siamo stati al buio per diverso tempo eppure da ieri uomini e mezzi hanno dato vita al cantiere che rimarrà attivo per una settimana il costo dell'opera non supera i 7 mila euro la soddisfazione di uno dei commercianti che proprio su via Riosto lavora dalla 1968 negli ultimi aveva registrato un forte calo delle vendite proprio a causa della inibizione al traffico della stradella e fino a quando sono arrivati sinceramente non ci credevo e anche a Giarra succedono i miracoli sono puntuali sono stati veramente puntuali a questa cosa non ci credevo però finalmente ce l'abbiamo anche fatta vedremo man mano che succede man mano che si va avanti vediamo che succede tutto qua aspettavamo già che venissero finalmente sono arrivati e va bene così quando quando ci sono cose da fare e si possono fare è giusto che l'amministrazione si comporta in questo modo e rimaniamo sempre a Giarra dove la materna Collodi si prepara al trasloco cantieri al via a Giarra per quel che riguarda i plessi scolastici iniziato il trasloco degli arredi dalla scuola materna comunale Collodi di via Siracusa che chiuderà in previsione dei lavori di ristrutturazione programmati per il prossimo autunno il centenario di alunni che frequentano la scuola materna riprenderanno le attività didattiche per il prossimo anno scolastico in una parte delle aule della scuola media Montalcini di Viale Libertà un'altra parte invece nella scuola media annessa al liceo artistico Guttuso di via Trieste i lavori alla Collodi dureranno circa un anno e serviranno a restituire maggior decoro ed efficienza alla Collodi si avvieranno questi lavori straordinari interesseranno tutto il plesso un finanziamento di oltre un milione e 300 mila euro proprio servirà a ristrutturare totalmente l'immobile l'area al di là del traslogo che vedrà i bambini il prossimo anno collocati in parte nella scuola Montalcini dello stesso istituto comprensivo è una parte ho fatto richiesta personalmente alla città metropolitana inviando una lettera per avere degli spazi nell'ex scuola d'arte istituto d'arte l'istituto superiore artistico abbiamo trovato con la preside una collocazione adeguata per i bambini perché nel frattempo i lavori dureranno circa un anno per cui sarà veramente un cantiere tutta l'area ed è un finanziamento importante che ristruttura una scuola molto frequentata abbiamo oltre 100 alunni che la frequentano bambini di età dai 2-3 anni fino ai 5 insomma è una scuola che in questa zona della città è estremamente frequentata e speriamo insomma di poterla dare con l'inizio dell'anno scolastico 2020-2021 nuovamente alla dirigente e quindi alla cittadinanza attenzione sempre massima nei confronti della scuola e delle strutture Sì abbiamo fatto tanti interventi e ce ne sono ancora da fare durante quest'estate siamo intervenuti ad esempio nella scuola Manzoni di Macchia dove c'erano alcune infiltrazioni d'acqua che sono state e anche sugli scarichi e si è intervenuto in tal senso ne abbiamo ancora alcune scuole a tre punti e anche a San Camillo come aree appunto che devono avere degli interventi per permettere di portare alla piena funzionalità anche alcune aule che erano state interdette per problemi appunto di interventi da effettuare l'attenzione è massima le risorse ovviamente non sono mai abbastanza partecipiamo ovvero possibile ai bandi di finanziamento la Collodi è un esempio concreto e positivo di questo nostro impegno e certo c'è tanto da fare adesso stiamo lavorando anche con la piccola manutenzione devo dire l'anno scorso abbiamo curato molto il riscaldamento lo faremo anche quest'anno stiamo intervenendo anche sugli impianti idrici perché ci siamo resi conto che spesso le scuole avevano dei consumi abnormi di acqua ciò dovuto sia a delle perdite conosciute ma spesso a perdite non conosciute ecco perché con l'assessore ai lavori pubblici ingegner di Rao stiamo immaginando proprio di collocare dei contatori in ogni scuola stiamo immaginando di mettere dei temporizzatori ci spostiamo adesso ad Aci Sant'Antonio dove si segna un nuovo traguardo sul fronte della differenziata eppure dice il sindaco Caruso il comune avrebbe pagato una bolletta meno salata se solo le discariche fossero state non fossero state chiuse vediamo galoppa la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti ad Aci Sant'Antonio che nel mese di luglio ha raggiunto il 62% facendo dunque registrare un nuovo record con due punti in più rispetto a quanto già ottenuto a giugno ma il risultato sarebbe stato ben più lusinghiero se per ben due giornate anche il comune di Aci Sant'Antonio avesse potuto usufruire della discarica di umido invece chiusa sono 28 i sindaci della società regolamentazione rifiuti della città metropolitana di Catania che hanno protestato contro la chiusura per due giornate della piattaforma Raco in testa alla protesta proprio il primo cittadino Sant'Antonese questo mese in continuità del mese scorso il comune di Sant'Antonio riesce a raggiungere veramente un traguardo storico per noi del 62% ma siamo un po' non siamo contenti perché nel frattempo abbiamo avuto la spiacevole notizia che le piattaforme dell'umido vengono bloccate e quindi non ci permettono di poter andare a conferire l'umido come si deve quindi facendo un calcolo approssimativo che abbiamo fatto da qua alla fine del mese di luglio abbiamo perso circa 8 punti 6 punti in percentuale in due giorni quindi questo ma oltre a perdere la percentuale che sono una questione prettamente diciamo di immagine abbiamo aggravato di spese il comune soprattutto i cittadini perché andare a conferire l'umido nelle indifferenziate oltre che dal punto di vista proprio di impatto civico che è una cosa che non si può accettare noi abbiamo dovuto esplorzare una cifra non indifferente di maggiore conferimento quindi oggi ho voluto lanciare per l'ennesima volta un messaggio alle nostre autorità soprattutto a livello regionale loro devono essere d'aiuto e da pungolo perché non possiamo essere forti con i nostri cittadini per cercare di spingere a fare la differenziata a certi livelli e poi non riuscire a gestire il tutto perché ci mancano le piattaforme quindi spero che questa azione possa essere d'aiuto per chi deve spingere queste iniziative e spero che non si possa verificare perché purtroppo è una cosa che si verifica ogni anno c'è un periodo dell'anno in cui le piattaforme diventano sature e quindi non abbiamo la possibilità anche perché penso come il Comune di San Antonio che nel giro di un anno ha incrementato circa 20 punti differenziati in tutta Sicilia vedo che c'è questo incremento soprattutto dell'umido quindi dobbiamo essere pronti ad avere tutti gli strumenti adatti per crescere intanto all'Avinaio monta la polemica sulla compostiera di prossimità il compostaggio di comunità che è una semplice approfitto per dire che è una semplice compostiera che raccoglie l'umido di più famiglie per fare un esempio veloce non rubo più tempo Agis Sant'Antonio raccoglie circa 165 tonnellate al mese di umido e sono convinto che ancora dobbiamo crescere questa compostiera che noi abbiamo pensato di poter avendo avuto la possibilità di un finanziamento regionale di poter emettere all'Avinaio potranno accogliere massimo 55 tonnellate l'anno quindi è facile fare un raffronto e capire che tutto può essere anzi a favore dei cittadini di l'Avinaio ritorniamo a Giarra per parlare di spettacoli ed in particolare della rassegna cinematografica Garden Movies che si tiene nel parco di Radice Pura Debutta stasera nel magnifico scenario di Radice Pura la terza edizione di Garden Movies con un omaggio a Nino Manfredi a 15 anni dalla sua scomparsa sarà ripercorsa la vita e la carriera dell'attore nonché il suo forte legame con la Sicilia Garden Movies Short Film Fest 2019 parte dunque sotto i migliori auspici la rassegna cinematografica sotto la direzione artistica di Ornella Sgroi è organizzata in collaborazione con la fondazione Radice Pura diretta da Mario Faro il sipario si alzerà stasera domani e domenica e proprio nella giornata conclusiva non mancherà un doveroso omaggio ad Andrea Camilleri recentemente scomparso alla terza edizione stiamo cominciando a essere maturi un festival che sta crescendo sempre in termini qualitativi infatti le tre giornate saranno ricche e ricchi di grandi protagonisti intanto ci sarà appunto la premazione del concorso internazionale della Radice Pura Short Film Fest quindi abbiamo ricevuto più di 300 cortometraggi da tutto il mondo la nostra giuria capitanata al nostro direttore artista Ornella Sgroi ha selezionato i migliori nove quindi ci sarà la premiazione dei migliori nove corti e dopodiché ci saranno dei momenti importanti con i lungometraggi proprio stasera che è l'inaugurazione venerdì con la presenza dell'assessore al turismo Maglio Messina che ringrazio per la vicinanza a questa grande importante manifestazione ci sarà un omaggio a Nino Manfredi a 15 anni dalla morte ci sarà la presenza della figlia e del genere che l'ha diretto nel film che proietteremo stasera e poi inizieranno le nostre tre serate con le nostre tre categorie che sono appunto quella delle radici quella dell'essenza mediterranea e quella appunto legata al nostro territorio e un altro omaggio importante sarà fatto domenica per la chiusura a Camilleri era doveroso ovviamente perché lui anche ha fatto molto cinema ha fatto chiaramente molta televisione con Montalbano ci saranno le attrici di Camilleri le donne Camilleri che reciteranno alcuni dei passi dei suoi romanzi più importanti quindi era doveroso per noi alla terza edizione diventare maturi e dare un omaggio a questi grandi personaggi una rassegna che si è fatta largo in questi anni devo dire di sì in tre anni si è fatto tanta strada ormai siamo una rassegna a livello non solo nazionale ma internazionale infatti i cortometraggi vengono da tutto il mondo e che ha avuto grandi riconoscimenti frutto di un lavoro di squadra ripeto Ornella Sgroi la direttore artista oltretutto una giornalista di fama anche di importanza nazionale e chiaramente il territorio ha risposto molto bene quindi invito tutti a supportarci perché comunque è un'iniziativa sempre che parte dalla fondazione Radice Pura che ha a cuore il territorio e lo sviluppo culturale lo facciamo con il nostro Garden Festival lo facciamo un'iniziativa culturale abbiamo da poco chiuso anche la Summer School in collaborazione con l'Università di Catania dove sono venuti dieci studenti da tutto il mondo a fare formazione sul paesaggio mediterraneo e lo facciamo con il linguaggio del cinema in questi tre giorni merdi sabato e domenica quindi saranno tre giorni ricchi di grandi emozioni vi aspettiamo alle 18 di ogni giorno di venerdì sabato e domenica per il tour dei giardini quindi si ha l'occasione di vedere il cinema ma di vedere anche i giardini e i giardini sia alle 18 e poi dopo il cinema si potranno vedere anche i giardini illuminati e di passare diciamo tre belle serate estive in un posto diciamo magico in termini di botanica cultura e atmosfera parliamo adesso di volley le azzurre si preparano alle prossime olimpiadi di Tokyo nel 2020 grande affare al Palacatania questa sera appunto le azzurre si incontreranno in campo con le chieniote Mario Grasso tutto è pronto al Palacatania per il debutto del girone preolimpico che porterà una delle quattro formazioni di pallavolo femminile di Italia Olanda Belgio e Kenya direttamente all'Olimpiade di Tokyo della prossima estate le azzurre vice campioni del mondo esordiranno oggi alle 21.15 contro il Kenya considerato tra le tre formazioni da sfidare fino a domenica il sestetto meno tecnico ma che nutre forti ambizioni contro uno dei sestetti più forti al mondo e che dunque stasera darà certamente battaglia sotto rete prima ancora sempre a Palacatania ma alle ore 18 Belgio e Olanda si affronteranno nel classico derby del Benelux con le arancioni favorite sulle giovani a squadre belga sono proprio gli olandesi l'avversario da battere azzurre che domani giocheranno contro il Belgio alle 21.15 e che domenica chiuderà nel girone con la partita che tutti indicano come decisiva proprio contro l'Olanda quarta ai campionati del mondo Cristina principessa Chirichella è la centrale della nazionale azzurra beh sicuramente Belgio e Olanda sono temibilissime dovremmo giocarcela veramente al 100% in quanto sono tutte atlete che hanno giocato nel campionato italiano quindi conosciamo e sappiamo che sono comunque atlete di altissimo livello quindi dovremo veramente mettere animo e cuore diciamo per poterla portare a casa questa qualificazione Monchi De Gennaro il libero dei sogni la cosa che rimane in comune è il pubblico caloroso che c'è qui a Catania quindi me ne aspetto tantissimo domani e anche per le prossime partite matricola sima dalle grandi ambizioni la Cicatena Calcio 1973 ha avviato la preparazione precampionato l'obiettivo è quello di fare del bene nel prestigioso torneo di eccellenza la Cicatena Calcio si presenta con fondate ambizioni ai nastri di partenza dell'imminente stagione calcistica che vedrà la società bianco-rossa tra le protagoniste del campionato di eccellenza malgrado vesta e galloni di neopromossa la formazione allenata da Natale Serafino punta al raggiungimento di un piazzamento onorevole senza tralasciare eventuali prospettive d'alta classifica ieri è iniziato il ritiro precampionato al polivalente di AC San Filippo no, credo che siamo a posto dobbiamo solo valutare qualche under ne abbiamo troppi però credo che la rossa sia completa la società all'inizio di stagione ha programmato per l'obiettivo di mantenere la categoria però sia io che il presidente abbiamo tantissima voglia di fare bene di scommerterci e di essere una mina vacante di questo campionato ad AC Catena c'è grande attesa tra i tifosi per la nuova stagione la società si è strutturata in maniera manageriale anche l'amministrazione comunale ha palesato totale collaborazione con la principale espressione calcistica cittadina si è vero io sono stato sempre appassionato dirigente della Cicatena Calcio pro tempo e posso dire che questa nuova società il quale l'anno scorso ha avuto diciamo questo bellissimo risultato della promozione io sono stato il primo anche a crederci in duplice veste sia da consigliere comunale e quindi anche di supporto diciamo come sponsor a questa nuova realtà c'è una società devo dire seria che diciamo sa portare avanti sa prendere le nostre giuste adesso si avvicinano ancora nuovi imprenditori c'è Nino Maugieri di cui da sempre appassionato e ricopre il ruolo di vicepresidente sono abbastanza orgoglioso per l'intera città e quindi sono fermamente convinto che ci sono progetti ambiziosi e quindi siamo qua a vedere e naturalmente uno in bocca all'uomo nuovamente in studio per la conclusione del nostro telegiornale non ci sono notizie aggiornamenti dell'ultima ora e dunque come dicevamo termina qui la prima edizione di Oratg disponibile all'indirizzo reitv.it sul canale youtube e sulla nostra pagina facebook adesso le previsioni meteo per la giornata di domani buon pomeriggio a tutti entra sempre più nel vivo l'ondata di caldo prevista nei giorni scorsi per il prossimo weekend lo vedete nelle previsioni meteorologiche per la giornata di domani sabato 3 agosto il cielo sarà sereno e soleggiato su tutta la Sicilia i venti i deboli i mari leggermente mossi e calmi uno sguardo adesso alle temperature che come dicevamo si innalzano soprattutto sui valori massimi ma si attestano alte anche le minime a Catania previste minime massima rispettivamente di 27 e 39 gradi centigradi supera i 40 gradi la città di Siracusa con 42 gradi centigradi di massima e 25 di minima la temperatura più bassa invece sarà rilevata della con 17 gradi 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 8 9 9 10 10 11